Un senso importante, le misure principali sono quelle relative alla giustizia, alle infrastrutture, all'aspetto economico e ambientale, quindi partiamo senz'altro con l'illustrazione delle misure da parte del Ministro Orlando che ha parecchie cose da raccontarvi. Cercherò di andare per titoli perché un'illustrazione di dettaglio mi farebbe perdere anche l'edizione di dopodomani, quindi faccio una estrema sintesi partendo dai titoli. Provando a dividere l'insieme della materia in tre blocchi. Il primo riguarda il rapporto tra giustizia ed economia in questa fase. Una delle ragioni che disincentiva gli investimenti nel nostro Paese, una delle ragioni che rende più difficile il rapporto tra le aziende nel nostro Paese è anche il funzionamento della giustizia civile. Sulla giustizia civile in questo primo blocco prevediamo una serie di interventi che dividerei in tre stadi. Un primo tipo di intervento immediato che cerca di incidere, che inciderà sul flusso in entrata, cioè sulla domanda di giustizia, attraverso un'azione di degiudizionalizzazione, parola difficilissima da dire, ma che in sostanza vuol dire togliere ciò che non è strettamente necessario di fronte al giudice. Il caso che il Presidente del Consiglio ha già richiamato e che dà un po' l'esempio e che potrebbe anche svilupparsi ulteriormente riguarda per esempio la questione di voce e separazioni quando queste siano consensuali. Quindi quando non mettano in discussione i diritti di terzi, il passaggio di fronte al giudice è ormai rutinario, però è un carico di lavoro. Pensiamo che il decreto consente invece di spostarsi di fronte ad altre autorità per ottenere lo stesso risultato. Così, sempre questo filone, una serie di attività di negoziazione tra gli avvocati che consente di raggiungere lo stesso risultato di una sentenza senza però andare di fronte al giudice. Rispetto a questo interveremo poi anche per definire degli incentivi a questo tipo di scelta che le parti liberamente possono assumere. Sempre sotto questo titolo generale abbiamo individuato poi una serie di stimoli, diciamo, o comunque di disincentivi a ricorso al contenzioso. Teniamo conto che noi nel civile siamo un Paese che ha tre volte e mezzo al contenzioso della Germania. E cioè per esempio una scelta diversa sulla compensazione delle spese, quindi diciamo un disincentivo per le cause temerarie. e alcuni accorgimenti processuali immediati che consentiranno di avere un processo immediatamente più rapido. C'è il secondo stadio che riguarda invece la parte, la definirei così, di selezione della domanda di giustizia. Questa domanda la possiamo far decrescere ma sarà sempre comunque significativa. C'è bisogno di selezionare quali sono le domande più urgenti. E le domande più urgenti in questo momento, e questa è una scelta chiaramente politica, sono l'impresa e la famiglia. E per questo pensiamo a un rafforzamento di due strutture, un tribunale con competenze più ampie per le imprese e un tribunale della famiglia che raccolga l'insieme delle competenze attualmente disseminate in diverse strutture giudiziarie e dia alla famiglia appunto un'interlocuzione unica, un riferimento unico per quanto riguarda il contenzioso. Il terzo stadio, diciamo, più di prospettiva riguarda una riforma e un'armonizzazione del processo civile per il quale è prevista una delega nel quale sono indicati alcuni principi di carattere generale. Abbiamo scelto di dividere così la materia per evitare interventi spot che in questi anni ci sono stati ma hanno prodotto spesso più danni che benefici nell'andamento del processo civile. Sempre sotto il capitolo giustizia e economia, l'altra riflessione è questa. Nella fase come questa di grave crisi aumenta il rischio di infiltrazione di capitali illeciti, aumenta il rischio di un utilizzo opaco dei bilanci. Da questo punto di vista abbiamo ritenuto necessario intervenire con la reintroduzione di due reati, con l'introduzione di un nuovo reato e la reintroduzione di un reato che esisteva già ma che è stato fortemente depotenziato, cioè l'autoriciclaggio e il falso in bilancio. Terzo, secondo blocco di questioni riguarda il tema del funzionamento dell'ordinamento giudiziario. A questo punto di vista, su questo punto, nei nostri 12 punti avevamo messo anche altri obiettivi che non sono abbandonati, mi riferisco alla riforma del CSM, ma che sono in questo momento diciamo in attesa di un'interlocuzione con il nuovo CSM che si insedierà nelle prossime settimane. Intanto però abbiamo portato a termine alcuni dei punti che erano indicati, il più rilevante credo sia quello che riguarda la responsabilità civile dei magistrati. Che cosa cambia? Cambia il fatto che non c'è più un filtro per l'accesso a questo tipo di ricorso che sostanzialmente, direi così, si era trasformato più che in un filtro e in un tappo e che ha impedito sostanzialmente una valutazione di merito dei diversi ricorsi che in questi anni sono stati fatti su questo punto. Aumenta, si rafforza l'automatismo sulla rivalsa una volta che c'è una condanna nei confronti dello Stato. La responsabilità è sempre indiretta ma nel momento in cui lo Stato viene condannato a risarcire il danno c'è un automatismo più forte rispetto all'attuale normativa. Terzo punto qualificante, c'è un aumento della rivalsa sul magistrato dal 30 al 50%. Questo è il punto più qualificante di questo blocco, accanto a questo forse meno qualificante mediaticamente ma credo che ci sia un aspetto altrettanto importante che è la riforma organica della magistratura onoraria. Nel nostro Paese la magistratura onoraria ha funzionato nel corso di questi anni con proroghe annuali. Ogni anno venivano rinnovati gli incarichi. Ora avremo un assetto della magistratura onoraria che consentirà anche di aumentare le competenze di questa magistratura che svolge nel nostro Paese un compito importante. Terzo blocco, diciamo quello sicuramente di grande rilevanza, riguarda il tema del funzionamento del processo penale. In questo caso abbiamo scelto di intervenire per cercare di semplificare il processo penale e quindi snellire l'iter che porta al giudizio finale attraverso alcuni interventi sull'udienza preliminare attraverso alcuni interventi che riguardano alcuni altri passaggi del processo nel suo insieme attraverso alcuni meccanismi che mirano, c'è una delega specifica su questo, che mirano a razionalizzare l'utilizzo del ricorso in appello. Non a comprimere naturalmente le garanzie, ma a cercare di dare un ordine in qualche modo a un utilizzo che spesso ha finalità dilattorie del ricorso in appello. Questo a fianco di questo incentivando anche alcune convenienze, tra virgolette, processuali. Per esempio riconoscendo la possibilità di sconti di pena per chi confessa anche reati di carattere grave a patto che naturalmente poi rispetto a questa pronuncia non ci sia la possibilità di appello e di ritornare su questo. Abbiamo parlato di un maxi patteggiamento o confessione sostanzialmente con pena che viene definita in rapporto con il giudice. La terza, c'è anche una procedura di estinzione del reato che riguarda i reati di minore entità quando ci sia una condotta di carattere riparatorio. Stiamo parlando, diciamo, dei reati contro il patrimonio, naturalmente non quelli contro la persona, quando in qualche modo siano di lieve entità e possano essere risarciti anche eliminando il danno nei confronti della litti. Un punto importante di questo terzo blocco, anche per la storia di questi anni, riguarda la prescrizione. Sulla prescrizione il Consiglio di Ministra ha condiviso la proposta che ho avanzato, cioè quella di interrompere la prescrizione al primo grado di giudizio nel momento in cui c'è una sentenza di condanna. Questa, a nostro avviso, in qualche modo disincentiverà le condotte dilatorie che in qualche modo caratterizzano compressibilmente, diciamo, l'attività processuale. Naturalmente rispetto a questo ci dovrà essere anche una grande capacità di guardare e poi ha la capacità di assicurare poi il fatto che si giunga all'appello, per il quale sono dati due anni. Sostanzialmente, se dopo i due anni non c'è la pronuncia d'appello, la prescrizione ricomincia a correre. Ricomincia a correre recuperando anche quella precedente nel caso in cui la sentenza di appello poi sia di assoluzione, quindi con un'estensione della presunzione di non colpevolezza. Questo è, per sommi capi, l'insieme degli interventi che abbiamo costruito. Credo che siano caratterizzati da un grande equilibrio, soprattutto da una grande attenzione a coniugare garanzie ed efficienza del processo. Le due cose non sono distinte, ma talvolta possono non essere necessariamente la stessa e quindi hanno bisogno anche di una armonizzazione tra loro. Devo dire che questo lavoro è stato condotto con un grande lavoro di ascolto, di confronto con tutti i soggetti della giurisdizione, con anche le categorie produttive. Abbiamo coinvolto anche le associazioni economiche e il sindacato nella costruzione, per esempio, della parte che riguarda la giustizia e l'economia. Penso che il Parlamento potrà operare positivamente su questo insieme di proposte. Naturalmente è molto importante che si conservi l'equilibrio che in qualche modo caratterizza questo intervento di riforma nel suo insieme. Mi pare di poter dire che ci sia stato da parte del Consiglio dei Ministri un apprezzamento del lavoro che è stato condotto. Lo dico non tanto per autocelebrazione, quanto per sottolineare come si è raggiunto un punto di equilibrio su un tema tutt'altro che scontato, perché naturalmente la storia che sta alle nostre spalle rispetto alla vicenda della giustizia e delle forze politiche che compongono la maggioranza è una storia assai diversa. Quindi da questo punto di vista credo che lo sforzo che abbiamo portato a compimento oggi non sia scrivibile soltanto al mio merito, ma anche a una disponibilità di tutti i soggetti politici e anche quelli della giurisdizione ad un confronto e ad un approfondimento. Ringrazio per questo davvero tutti coloro che ci hanno dato una mano a migliorare i via via i provvedimenti e confido che questa attività di collaborazione proseguirà anche nei prossimi mesi. Grazie. Allora avete visto come sono stati affrontati tutti i temi, nessuno è stato omesso. Così come sono stati affrontati molti temi nell'altro decreto molto importante che è quello dello sblocco Italia che ha come parte principale quella sull'infrastruttura che adesso il Ministro Lupi illustrerà brevemente. Sì, buonasera, grazie. Come ha già detto il Sottosegretario del Rio, mi ha illustrato il Presidente del Consiglio, nello sblocco Italia è stato un lavoro ovviamente che ha visto la partecipazione del mio Ministero ma anche ovviamente degli altri colleghi ministri che sono qui. Le norme è un provvedimento, un decreto legge importante, ha 50 articoli, quindi è evidente che ci sarà tutto il tempo per approfondire puntualmente le norme previste. Ma per quanto le cose più importanti ed essenziali che sono previste in questo decreto per quanto riguarda il tema dell'infrastruttura e dell'edilizia, della sblocca burocrazia riguardano al primo capitolo esattamente quello che avevamo annunciato. E cioè il primo articolo contiene e si pone un obiettivo molto semplice. Ci sono opere fondamentali per il Paese che sono finanziate e che senza un intervento di semplificazione, sburocratizzazione, democratizzazione, accelerazione dei lavori rischiano di partire solamente nel 2018, nel 2019. Abbiamo identificato queste opere, abbiamo identificato in particolare due opere che sono fondamentali per l'infrastrutturazione del Paese. La prima è l'alta velocità, alta capacità, Napoli-Bari, 4 miliardi e 400 milioni di euro già stanziati per quest'opera, costo complessivo dell'opera, 6 miliardi e 170 milioni di euro. La seconda è la Palermo-Messina-Catania. L'individuazione di queste due opere non è casuale, sia per la loro strategicità, sia per la posizione geografica che rivestono all'interno di un Paese che deve strutturarsi in particolare sul ferro, sull'alta velocità e sull'alta capacità in tutta la sua complessità e globalità. L'articolo prevede che, ed è la grande novità di questo decreto in materia infrastrutturale, che i cantieri devono aprire, e dovranno aprire per queste due opere, il primo novembre del 2015. Per fare questo, quindi dal primo novembre del 2015, non devono essere appaltate le opere, devono essere aperti i cantieri per la realizzazione della Napoli-Bari e della Palermo-Messina-Catania. Per far questo è previsto uno strumento straordinario che è la nomina, con poteri ovviamente straordinari connessi, a questa nomina di commissario all'amministratore delegato del gruppo delle ferrovie dello Stato. Troverete poi ovviamente nell'articolo 1, nella norma, il dettaglio e la modalità con cui questo potrà avvenire. Sono previsti tempi certi, 90 giorni per l'approvazione definitiva dei progetti, 90 giorni per l'assegnazione dei cantieri, procedure, conferenze di servizi, semplificazioni. Obiettivo scritto in legge, quindi non teorico, è la data primo novembre 2015. Sempre all'interno, solo con questo provvedimento, vedete, si sbloccano e si dà certezza, non solo di realizzazione di quest'opera, ma le risorse che sono stanziate e destinate per la realizzazione di quest'opera, che ovviamente avverrà nei 4-5 anni successivi, ma finalmente in continuità. Oltre 10 miliardi di euro complessivamente è il costo di realizzazione per queste due opere. Sempre in questo articolo, senza assegnazione di risorse, ma sul tema della sburocratizzazione, abbiamo affrontato l'altro tema strategico che riguarda le infrastrutture, la sfida infrastrutturale del nostro Paese, che è il tema degli aeroporti e degli aeroporti di interesse nazionale e degli aeroporti che hanno contratti di programma già approvati, risorse e finanziamenti già stanziati per la competitività dell'aeroporto, per l'ampliamento dell'aeroporto, ma per n problemi di tipo burocratico, di approvazione dei piani, eccetera, vedono l'impossibilità di poter partire nella realizzazione dei loro lavori. Un comma dell'articolo 1 dà la possibilità, sia da un punto di vista procedurale, sia da un punto di vista dell'approvazione dei contratti di programma, di partire rapidissimamente e di sbloccare le risorse che sono connesse a questo sistema aeroportuale, che avete sentito il Presidente del Consiglio quantifica e valgono circa 4 miliardi di euro. Per quanto riguarda invece un altro abbiamo poi ulteriormente semplificato l'accesso per quanto riguarda tutte le opere che possono accedere alla legge sulla defiscalizzazione che è in vigore nel nostro Paese e che aveva l'assoluta necessità di essere molto chiara e quindi nell'articolo 2 trovate il contenuto di questa norma e che abbasserà ulteriormente da 200 milioni a 50 milioni di euro il tetto per cui opere strategiche per lo Stato realizzato da privati possono accedere alle norme sulla defiscalizzazione. La seconda parte del provvedimento riguarda invece opere che rientrano all'interno del disegno strategico del complessivo di infrastrutturazione del Paese. Non abbiamo affrontato tutte le opere. Non è che le opere che qui non sono segnate sono escluse o non si realizzeranno più anzi perché ci sarà poi la legge di stabilità che prevederà esattamente nella loro continuità l'individuazione e la realizzazione delle opere strategiche ma che avevano questa e che hanno questa caratteristica. Stanziando delle risorse possono immediatamente continuare i cantieri o essere appaltate ed è questa anche qui la grande novità entro il 31 dicembre 2014 non appaltate e cantierate pena il ritiro dello stanziamento che è stato previsto 31 dicembre 2014 30 giugno 2015 31 agosto 2015 in dieci mesi abbiamo stanziato 3 miliardi 820 milioni di euro per realizzare e per dare il via libera in dieci mesi a queste opere. Quali sono queste opere e quale criterio hanno seguito? Hanno seguito innanzitutto un criterio di priorità riguardo alla sfida principale che avevamo che era quella dei grandi nodi metropolitani delle aree metropolitane e dei grandi nodi logistici e questa è stata la prima priorità che ci siamo dati quindi il sistema metropolitano in italiano delle grandi aree metropolitane che tra l'altro si andranno a costituire come città metropolitane è stato finanziato proprio per permettere o l'attivazione dei cantieri o la prosecuzione dei cantieri in particolare la linea C di Roma il completamento della copertura del passante ferroviario di Torino e l'intervento sulla rete è sempre la linea metropolitana prima fase di Torino la metrotrambia di Firenze la metropolitana di Napoli il quadruplicamento da questo punto di vista anche sull'attenzione sul trasporto su ferro della ferrovia Lucchia Pistoia un intervento che ci è stato segnalato molto importante per la città di Roma proprio per il collegamento aeroporto e centro e centro città a proposito di collegamenti infrastrutturali che è il ponte stradale di collegamento per l'autostrada tra Fiumicino e Leur dove si concentra il massimo della concentrazione del traffico e dell'inefficienza nel rapporto per chi conosce Roma vicino allo Sheraton per capirci e infine il sistema come ho già detto prima degli aeroporti abbiamo poi suddiviso le altre opere l'elenco lo troverete ovviamente nel dettaglio per quanto riguarda i temi degli assi ferroviari strategici cito solo tre tanto per passare poi agli altri ovviamente argomenti che abbiamo trattato che sono quelli che avevano bisogno di risorse puntuali per proseguire nei lavori la Brennero il terzo valico l'alta velocità Verona Vicenza Brescia Verona Vicenza Padova il per quanto riguarda invece quindi 3 miliardi 820 milioni il quarto articolo comprende il punto delineato dal Presidente del Consiglio che è stata l'attivazione di un rapporto tra Comuni e Presidenza del Consiglio si sviluppa in due aree la prima è appunto l'esclusione dal patto di stabilità per quanto riguarda le richieste di quei Comuni che avevano semplicemente la necessità di sbloccare pagare o realizzare le loro opere il secondo invece una quota di questi 3 miliardi 820 milioni a condizione che le opere siano cantierabili entro il 31 dicembre 2000 e 2014 ovviamente per realizzare le richieste che ci sono arrivate dai Comuni concessionare e questo è il capitolo che vede uno stanziamento di risorse legato però alla realizzazione temporale ed effettiva dei cantieri 10 mesi se non si realizza in 10 mesi si ritirano le risorse abbiamo la necessità di fare questo il quarto punto è stato quello legato all'attivazione invece delle risorse dei privati che possono essere investite sulle infrastrutture strategiche in particolare il tema delle concessionarie autostradali abbiamo con il duplice obiettivo il contenimento delle tariffe autostradali e quindi non più l'aumento delle tariffe delle autostradali l'investimento da parte dei privati di risorse per la dotazione infrastrutturale del miglioramento infrastrutturale delle nostre dirette autostradali noi a fronte di questo con un articolo diamo la possibilità di procedere a o all'accorpamento o alla proroga della concessione oltre 10 miliardi di euro di investimento per quanto riguarda invece e concludo perché poi ci sarebbero ovviamente altre questioni che sono che sono comprese in questo nei 50 articoli del decreto l'attenzione fondamentale è stata al tema della burocratizzazione e semplificazione edilizia rilancio del settore dell'edilizia la norma che vedrete poi nella legge delega per il codice degli appalti legata ai criteri dell'Europa è stata applicata anche in questo decreto alle progettazioni tecniche è una norma che viene definita tecnicamente over design vuol dire che le caratteristiche tecniche delle nostre progettazioni in Italia si adeguano alle caratteristiche alle prescrizioni tecniche dell'Europa punto non è che devono fare di più di quello che prescrive l'Europa qualora questo dovesse accadere deve esserci una copertura deve esserci una certezza ovviamente e una ragione per cui questo viene fatto mentre sul tema della edilizia della semplificazione edilizia la norma più importante che viene e anche che tocca tutte le famiglie italiane che viene compresa in questo decreto è una norma semplicissima che purtroppo non ha mai trovato attuazione le ristrutturazioni in casa propria non avverranno più attraverso una autorizzazione edilizia ma attraverso una semplice comunicazione edilizia al comune cioè per spostare una parete per fare la camera ovviamente non per aumentare i volumi ovviamente non per costruire altre case ma tutte le ristrutturazioni che riguardano il proprio appartamento avverranno con una semplice comunicazione quindi non con un'autorizzazione da parte della famiglia e del cittadino alla amministrazione comunale e immediatamente il cittadino ha diritto di fare tutti i lavori che vuole in casa propria non ha più bisogno del mi sembra che questo sia il segnale più importante e concludo che noi possiamo dare possiamo mettere tante risorse come dobbiamo mettere nelle infrastrutture con tempi certi eccetera ma la principale segnale che dobbiamo dare nel nostro paese per le grandi opere le piccole opere ma per tutta l'attività delle famiglie e dei cittadini è quella di liberarci nel rispetto ovviamente delle norme e delle leggi dalla da passi burocratici impedimenti burocratici che fanno solo allontanare nel tempo quello che è una necessità quindi queste sono le questioni principali ovviamente le altre che sono contenute saranno affrontate dagli altri colleghi sì grazie allora darei la parola adesso al Ministro Guidi perché ci sono alcune questioni sulla protezione la promozione del Made in Italy e anche sulla promozione delle infrastrutture digitali quindi darei al Ministro Guidi la comunicazione su questi argomenti prego Ministro io vado veloce su alcuni temi che ha già anche annunciato nella sua parte introduttiva il Presidente del Consiglio e quindi in particolare come abbiamo già detto in altre occasioni un piano straordinario di supporto per il Made in Italy quindi quello che noi vogliamo raggiungere in un triennio quindi 2015 2016 2017 è un aumento noi stimiamo di poter avere un aumento di un punto percentuale del PIL il nostro obiettivo è quello in un bacino di circa 70.000 imprese potenzialmente esportatrici averne almeno altre 20.000 in più che diventino stabilmente esportatrici ci sono nel mondo circa 800 milioni di nuovi consumatori che noi crediamo che le nostre imprese i nostri prodotti tipicamente quelli del Made in Italy possano intercettare e quindi l'obiettivo è quello di arrivare ad avere almeno 50 miliardi di export in più nei tre anni sui cinque mercati emergenti principali e sui 30 paesi di riferimento e anche diciamo facendo un piano di iniziative soprattutto legate al supporto per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese quindi sostenendole nella ricerca e nella capacità di avere personale dedicato all'export quindi tipicamente voucher per prendere per avere personale export manager avere un piano di razionalizzazione e supporto su tutte quelle che sono le attività fieristiche avere degli accordi su uno dei punti forse più deboli che tipicamente il nostro settore produttivo e manifatturiero ha nel mondo cioè quello di avere degli accordi forti e privilegiati con le principali catene distributive mondiali e naturalmente promuovere quindi il made in Italy nelle più e varie forme e a questo proposito devo come dire ringraziare anche il collega il ministro Martina perché tutto questo naturalmente verrà fatto anche con una particolare attenzione e naturalmente insieme al ministero delle politiche agricole per quello che riguarda la parte dell'agroalimentare quindi il 2015 sarà naturalmente un anno molto importante soprattutto per utilizzare l'importante volano che naturalmente l'expo ci darà e con la realizzazione di un segno distintivo unico proprio per le produzioni agricole e naturalmente agroalimentari e quindi per favorirne la produzione all'estero e per utilizzare il volano che l'expo ci darà tutto questo anche tenendo conto di un'azione molto importante che noi crediamo sia oggi molto utile fare soprattutto sui mercati internazionali di contrasto a quelle che viene definito l'Italian Sounding è tutto quello che è in qualche modo un riferimento improprio diciamo così alle produzioni italiane e portando naturalmente fuori e quindi cercando di aggredire il più possibile questi mercati internazionali noi crediamo oggi molto importante razionalizzare e far confluire formalmente la capacità di attrarre invece gli investimenti a essere nel nostro paese su ICE e quindi cercheremo di razionalizzare meglio la sua capacità non solo di aiutare le aziende a internazionalizzarsi ma soprattutto anche di intercettare noi crediamo almeno 20 miliardi di nuovi investimenti che dall'estero noi siamo convinti potranno arrivare a localizzarsi in Italia naturalmente nell'ambito del piano ci sono poi anche l'utilizzo e la promozione di strumenti come ad esempio l'e-commerce e quindi piattaforme diciamo multimediali e quindi tutta una serie insomma poi di azioni dettagliate che magari poi lasceremo a momenti successivi insomma perché vengano spiegate meglio altro tema che riguarda appunto lo sblocco Italia che io ritengo molto importante non solo per la parte di sicurezza energetica ma anche per anche qui una capacità di rilascio di investimenti molto importanti è quello che riguarda lo sblocco di alcune infrastrutture energetiche considerate strategiche a livello nazionale quindi sia per quello che riguarda la produzione indigena di fonti energetiche quindi di ricerca di idrocarburi nel nostro paese e anche quello che riguarda il trasporto delle fonti tipicamente gas ma non solo ma anche elettriche naturalmente quindi tutto quello che riguarda la semplificazione della possibilità di avere interconnessioni che garantiscono sicurezza energetica e che naturalmente consentono soprattutto a molti investitori privati anche di rilasciare ci sono almeno 15 miliardi di euro che potrebbero essere sbloccati di investimenti privati per quello che riguarda la semplificazione autorizzativa che oggi è estremamente frammentata e quindi noi abbiamo proposto in questo testo del decreto sblocco Italia una serie di norme che ha naturalmente costituzione vigente quindi nel rispetto della separazione diciamo fra Stato e regioni di differenti competenze però in qualche modo attribuisce al governo centrale una capacità di indirizzo di indicazione anche di semplificazione e accelerazione di tutte quelle che sono le procedure che servono per arrivare poi alla realizzazione di queste infrastrutture e alla creazione di nuove potenziali fonti di estrazione di risorse indigene nel nostro territorio altro capitolo sempre molto importante poi qui mi fermo riguarda un altro tipo di reti che sono quelle legate alle telecomunicazioni che sono altrettanto importanti diceva il ministro Lupi molto importante la parte diciamo di defiscalizzazione per quello che riguarda le cosiddette aree a rischio fallimento mercato quindi le aree bianche che naturalmente stimoleranno gli operatori ad arrivare a coprire quindi con un beneficio doppio liberare risorse fare investimenti nello stesso tempo cablare il nostro paese nello stesso tempo una serie di norme che sono volte su investimenti già lanciati a semplificare procedure di autorizzazione e di posa e di messa in opera di queste infrastrutture legate alle TLC anche qui con un doppio beneficio naturalmente di stimolare e accelerare il più possibile la realizzazione di queste opere con un servizio naturalmente per il paese naturalmente con una liberazione di risorse per quello che riguarda nuovi investimenti che potranno arrivare grazie molto chiaro ci sono anche misure come al solito di stimola l'economia il ministro Paduan le illustra prego ministro grazie un punto generale e quattro esempi molto rapidi un punto generale che di fatto è stato già anticipato dai colleghi che questo è un decreto che stimola gli investimenti stimola gli investimenti pubblici e stimola gli investimenti privati e lo fa sia mobilizzando risorse sia cambiando le regole semplificandole sottolineo quest'ultimo aspetto perché a volte viene poco considerato nel dibattito di politica economica nel paese sembra che cambiare le regole non serva consentitemi un esempio negli ultimi due mesi c'è stata l'emissione di oltre un miliardo di mini bonds cioè di bonds emessi da piccole imprese soltanto grazie a una norma introdotta nel decreto competitività questo fatto è stato fatto a notare da analisti inglesi e ritengo che sia un esempio estremamente importante di come mettendo insieme misure sia finanziate sia normative l'impatto sugli investimenti può essere molto significativo questo dato è oggi la giornata di oggi particolarmente rilevante perché come sapete dall'istat non sono aggiunte buone notizie sull'andamento dell'economia il PIL ha ancora un segno complessivamente negativo ma di questo segno negativo è il risultato di un segno moderatamente positivo dei consumi e negativo degli investimenti quindi il governo sta attaccando una delle debolezze principali di questo paese detto questo quattro esempi di misure nel decreto primo misure volte ad estendere il perimetro di azione sia in termini di dotazione di capitale mobilizzabile sia in termini di settori di intervento della cassa depositi e prestiti quindi di un investitore a lungo termine che va esattamente nella direzione che dicevo secondo nuove misure di finanza per la crescita dello stesso tipo diciamo così di quelle del decreto competitività in particolare atte a facilitare l'emissione di project bonds che di nuovo potrebbero essere estremamente importanti per l'investimento a lungo termine il settore immobiliare ne ha già parlato il ministro Lupi misure volte a facilitare l'attività delle società immobiliari quotate renderle dei veri e propri fondi immobiliari anche allo scopo di valorizzare l'importantissimo patrimonio immobiliare pubblico di cui molto si parla ma poco si sa è una iniziativa del governo e del ministero quella di spingere in questa direzione infine ho finito una misura che fa parte di questo decreto forse non è strettamente legata agli investimenti ma è importante per lo sblocco del paese il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga in un articolo del decreto grazie grazie ministro Padman per la sintesi anglosassone ministro Galletti per le misure ambientali prego sì grazie a me questo decreto piace particolarmente non solo perché ci abbiamo lavorato sopra molto e devo dire anche con una buona sintonia tra tutti i ministeri che sono qui e non solo perché racconta un pezzo importante della storia di questo governo ma mi piace perché mi permette di rendere reale un concetto che fin dall'inizio io ho portato avanti cioè come l'ambiente può diventare un volano per lo sviluppo economico ecco questo è uno di quegli esempi noi qui facciamo una serie di semplificazioni su alcuni settori importanti senza abbassare il livello di tutela dell'ambiente che dà la possibilità a molte delle infrastrutture che diceva prima il ministro Lupi di subire un'accelerazione non solo ma addirittura di mettere in moto in certi settori una serie di investimenti che fino ad ora sono rimasti bloccati mi riferisco a tre settori in particolare che sono il settore delle bonifiche il settore del disesto idrogeologico e il settore della costruzione di opere pubbliche per quanto riguarda una parte importante che sono le terre e rocce da scavo il trattamento di queste che fino adesso sono state un ostacolo molto forte alla realizzazione di queste opere pubbliche e lo facciamo attraverso l'affermazione di un criterio molto semplice cioè quello del divieto del gold plating cosa che faremo anche in futuro l'abbiamo già fatto nel 91 e continueremo a farlo cioè nelle norme ambientali noi applichiamo strettamente le norme europee le norme europee sono fatte su base scientifica applicando a queste un criterio di prudenza se noi andiamo ad applicare un criterio di prudenza ad una norma che ha già un criterio di prudenza applicato su base scientifica noi blocchiamo lo sviluppo di questo paese allora il segnale che noi diamo è questo tuteliamo l'ambiente ma non diventiamo un ostacolo per lo sviluppo del paese e in entrambi in tutti questi settori noi abbiamo applicato questa normativa che non vi esplicito perché è molto tecnica l'ultima cosa che vi volevo dire è che questa mattina c'è stato il parere positivo della commissione via sulla TAP questo è un passaggio molto importante vuole dire che dopo anni che la TAP era bloccata anche per le valutazioni di impatto ambientale da oggi quell'ostacolo non esiste più quindi non esistono più ostacoli alla realizzazione della TAP penso che sia stato importante farlo in questo momento anche in coincidenza con il decreto che stiamo portando oggi perché dà l'idea proprio della volontà di questo governo di andare avanti nella realizzazione di opere pubbliche e dice plasticamente anche quello che diceva prima il ministro Padua cosa in cui io credo molto che le risorse sono necessarie ma spesso lo vediamo ad esempio nel sistema idrogeologico non basta avere le risorse se poi non hai le leggi che ti permettono di spendere e spenderle bene bene grazie domande prego volevo Stefano Fettri del fatto volevo chiedere una cosa generale se ho capito bene le agenzie stanno scrivendo che è saltata la parte sulle municipalizzate sui vincoli per rafforzare i sindaci a privatizzare e a vendere volevo capire se era vero volevo chiedere al ministro Padua se sono fatti molti numeri su questo decreto prima 43 miliardi 3, 4 se ci poteva dare una cifra riassuntiva di qual è l'impatto di finanza pubblica e al ministro Orlando se ci spiegava meglio la parte sulle intercettazioni che il presidente Renzi ha solo accennato e se anche questo coinvolgimento dei giornalisti è una cosa formalizzata nel valutare cosa pubblicare cosa no se invece è solo un'idea grazie grazie prego un'altra domanda è acceso salve buonasera sono Claudia Fusani per l'Huffington Post alcune domande per il ministro Orlando sul falso in bilancio sono cose un pochino tecniche però bisogna di saperlo sul falso in bilancio avete deciso di portare la pena da 2 a 5 anni per le società non quotate e oltre 5 anni cioè fino a 6 per le società quotate sì o no per la prescrizione se c'è una una norma transitoria su questo punto ovvero sì vorrei capire esattamente quando entra in vigore questa nuova norma cioè quando è che scatta la sospensione cioè i processi in corso avranno come dire potranno potranno subire oppure avere questa nuova norma oppure no e poi nuovamente sulle intercettazioni com'è che fino a ieri sera il testo sull'intercettazione non c'era invece adesso è spuntato nel Consiglio dei Ministri un designio di legge e delega cioè cosa è successo? Sono tre domande prego prego non ho di cosa sono tre domande in una Silvia Casparetto dell'Ansa una domanda per il Ministro Lupi o per il Ministro Padoan nelle bozze dello Sblocca Italia sarà parlato di incentivi per chi comprava casa e affittava canone concordato e anche di stabilizzare barra allargare l'eco bonus il Premier ha detto abbiamo un impegno l'impegno di Sblocca Italia o arriverà con la legge di stabilità? grazie molto bene l'ultima domanda prego o la penultima se ne sono altre bene l'ultima allora le domande per il Ministro Lupi buonasera da parte di Alfonso Palumbo Prisma News Ministro Lupi una gentilezza a proposito delle opere aeroportuali sbaglio io ho in effetti il messaggio che è arrivato al governo c'è anche l'eventuale raddoppio dell'aeroporto romano di Fiumicino a Maccarese fra le opere ritenute di grande attualità e seconda a proposito del codice appalti se ho ben capito stesse regole in Italia come in Europa purtroppo io ho seguito anche in zone in Val di Susa tutta la cherella relativa alla velocità all'accordo in Italia la domanda per ciò che riguarda la criminalità organizzata che vuol dire che staremo meno attenti e useremo per dire il codice francese oppure grazie grazie bene allora rispondo io alla prima domanda del Dottor Feltri la parte di municipalizzate sarà affrontata in legge di stabilità in maniera organica erano pronte alcune norme ne mancavano alcune altre abbiamo deciso in Consiglio di Ministri di affrontarle organicamente completando il quadro questa è stata la decisione del Consiglio mi pare che vi siano diverse domande partirei dal Ministro Padoan che deve fare forse deve dare una risposta rapida rispetto al potenzialità o al Ministro Lupi che vuole parlare mi pare sia la quota complessiva dunque io rispondo alle due domande specifiche qual è la cifra prevedibile di mobilitazione delle risorse private la risposta è non lo so perché riteniamo che possono essere significative queste risposte al settore privato ha citato prima l'esempio dei mini bonds che in due mesi hanno mobilitato un miliardo di emissioni si dovrebbe misurare così il contributo netto dal punto di vista dell'impatto netto sulla finanza pubblica la risposta è zero non nel senso che non ci sono spese perché ci sono risorse ne parlava diffusamente il Ministro Lupi per gli investimenti ma queste sono a piena copertura quindi dal punto di vista dell'impatto sulla finanza pubblica non stiamo peggiorando la finanza pubblica la finanza pubblica rimane con il dovere prima grazie allora darei la parola al Ministro Lupi e poi da ultimo il Ministro Orlando se le consente così diamo una risposta tematica prego sì per quanto riguarda il tema delle casa nel senso che l'intera c'è un intero capitolo sulla semplificazione edilizia rilancio dell'inizia e casa le ristrutturazioni è un obiettivo che anche in questo Consiglio dei Ministri sono state la proroga delle ristrutturazioni per quanto riguarda l'ecobonus è stato ribadito le ristrutturazioni hanno una sono valide fino al 31 dicembre 2014 nelle modalità con cui le conosciamo 65% 50% e quindi il luogo naturale dove trovare la copertura per la proroga delle ristrutturazioni è la legge di stabilità come è giusto che sia anche all'interno di un progetto più complessivo rimangono e sono previste forme anche di agevolazione per l'acquisto o l'acquisto acquisto casa per affitto a canone concordato sulla linea del decreto che avevamo già fatto di incentivazione per quanto riguarda il mercato dell'affitto e il mercato immobiliare sull'aspetto sulla domanda del codice del delega per il codice degli affalti gli obiettivi e i principi sono chiarissimi nella delega tra l'altro il difetto di tante deleghe è di essere lunghissima questa è una delega molto stringata molto chiara e molto netta la prima dice quella di vieto di introduzione e mantenimento di livelli di regolazione superiore a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie poi c'è tutto un tema legato ovviamente alla trasparenza alla pubblicità delle procedure delle gare all'attenzione anche perché questa riforma avviene nei confronti dell'Europa ma anche dopo una serie di dibattiti a seguito dei fenomeni di corruzione che abbiamo avuto nel settore dei lavori pubblici noi crediamo e concludo che grande lotta verso la corruzione ma la lotta la corruzione non si fa con un'ulteriore burocratizzazione si fa con la certezza delle regole con la semplificazione delle regole con uno dei principi che noi abbiamo detto un testo unico codice dei contratti e delle concessioni pubbliche che stabilisca con chiarezza che cosa uno può fare e che cosa non può fare l'esempio che ho fatto prima e non c'entro ovviamente con la riforma dei codici del patto perché diventa ovviamente immediatamente operativo è che se per spostare una porta devo chiedere 12.000 autorizzazioni ma se posso spostare una porta in casa mia ovviamente senza modificare la volontria lo faccio è casa mia ho diritto di farlo e non ho nessun problema dico solo che ho spostato la porta e faccio la comunicazione al comune che l'ho fatta credo di aver risposto poi troverete nel dettaglio l'elenco delle opere la valutazione dell'impatto non solo quelle come ha detto il ministro Paduan e ho concluso 3.880.000.000 sono risorse che vengono rese immediatamente disponibili proprio per i 10 mesi di cantierizzazione tutte le altre sono risorse che noi sblocchiamo e che erano bloccate tante volte il problema nel nostro paese anzi troppo spesso lo sottolinea sempre il sottosegretario del Rio il problema dell'Italia non sono tanto le risorse che vengono messe ma le risorse che vengono assegnate che non vengono spese questa è la prima grande sfida e noi ci facciamo tutti i nostri dibattiti quante nuove risorse aggiuntive mettiamo quante risorse aggiuntive iniziamo a spendere e a spenderle realmente la grande novità è che avere il coraggio di scrivere 31 dicembre 2014 per il cantiere 30 giugno 2014 31 agosto vuol dire sfidarsi sul fatto che 4 miliardi di euro siano effettivamente cantieri che poi vanno a dare impulso alla realizzazione delle opere ma anche impulso allo sviluppo e alla crescita di un paese questo è l'impianto che c'è stato grazie grazie mi ha evitato anche la mia conclusione mi ha evitato la sua filippica mi sorlando no scusi la pena da 3-8 anni dopo poi per le quotate ora stiamo lavorando su un ragionamento che riguarda il tema della rilevanza del fatto perché crediamo che sia importante soprattutto per le piccole andare a una scrittura quindi nel salvointesa che consenta diciamo di apprezzare di consentire al giudice di apprezzare effettivamente l'impatto che questa violazione ha sull'andamento dell'impresa della trasparenza del mercato quindi c'è stata una discussione ora stiamo chiudendo mi dispiace le darò una risposta più chiara quando avremo la norma scritta sul salvointesa dai 3-8 anni gli ho spiegato per le non quotate ancora non lo sapete dai 3-8 per le non quotate stiamo lavorando a una definizione della pena orientativamente credo che si possa utilizzare questo strumento per quanto riguarda la questione della delle per quanto riguarda invece la questione di quando entra in vigore la prescrizione il nuovo regime della prescrizione la risposta è dopo la prima sentenza dopo la sentenza le sentenze di condanna di primo grado a seguito del vigore della legge dopo l'entrata in vigore della legge tutte le sentenze di primo grado saranno definite dal nuovo regime di prescrizione cioè i processi saranno definiti dal nuovo regime di prescrizione terza questione invece per quanto riguarda che cosa è successo sulle intercettazioni è molto semplice lo abbiamo letto oggi su tutti i giornali c'è stata una discussione nell'ambito della maggioranza c'eravamo assunti un impegno che era quello comunque di non scrivere nulla prima di un confronto con i direttori con gli editori manteniamo questo impegno perché la scelta che abbiamo fatto è quella di ricorrere a una delega che indica alcuni principi quindi sul cone c'è ampio margine di manovra e possibilità di lavorare c'è stata una forza che è l'NCD che ha ritenuto più opportuno diciamo in una manovra complessiva che tra l'altro diciamo aumenta la possibilità di utilizzare le intercettazioni perché alcuni inaspiramenti di pena consentano come proprio la domanda precedente ha messo in evidenza la possibilità di utilizzare di più questo mezzo anche per reati che oggi non lo prevedono c'è stata una richiesta diciamo di iniziare però a mettere alcuni paletti cioè incominciare a dire su quali basi svolgere questo confronto in questo senso anche qui si tratta di un passo diciamo formale perché dal punto di vista sostanziale quali erano i paletti lo avevamo già detto noi riteniamo assolutamente necessario non mettere in discussione i presupposti per le intercettazioni quindi non limitare la capacità di indagine non limitare il ricorso all'intercettazione per la capacità di indagine ma riteniamo invece necessario studiare quali sono gli strumenti più idoni per intervenire sull'inopportuna diffusione di notizie che non hanno stretta rilevanza penale che non hanno rilevanza di carattere penale cioè come si realizza quell'attività di filtro questi anni si è sbizzarriti su quali possono essere gli strumenti che consentono in qualche modo diciamo che nel fascicolo vanno le cose strettamente necessarie all'attività processuale questo è il lavoro che inizieremo dai prossimi giorni lo inizieremo mantenendo con l'impegno che ci eravamo assunti cioè un confronto con gli operatori dell'informazione perché riteniamo naturalmente che accanto al tema della sicurezza e della tutela della privacy ci sia anche un importante rilievo che è quello del diritto all'informazione che non deve essere in alcun modo compresso quindi credo che ci sia diciamo un fatto nuovo che deriva diciamo dall'introduzione di un altro titolo nelle cose già che iniziamo a fare dalle prossime settimane ma la conferma di un impegno che avevamo assunto che è quello comunque di far precedere da un confronto la possibilità di passare poi agli articolati credo che in questo senso sia davvero molto importante che si sviluppi un dibattito diverso da quello degli anni passati non c'è nessuno che vuole mettere bavagli non c'è nessuno che vuole mettere limiti e questo credo che lo abbiamo stabilito in modo perentorio è una discussione diciamo che da questo punto di vista abbiamo fatto con un'indicazione chiarissima del Presidente del Consiglio non c'è nessuna volontà di ridurre l'utilizzo delle intercettazioni per il contrasto alle attività criminali c'è una riflessione su come si consente appunto di individuare delle procedure che evitino alcune diffusioni inopportune che purtroppo in questi anni hanno cagionato danni anche a persone che talvolta non erano direttamente coinvolte nei processi bene credo che l'enorme mole di lavoro che vi è stata presentata vi dia oggetto di lavoro nelle ore seguenti quindi vi auguriamo buona serata grazie a tutti 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 grazie a tutti